Con pane, con piccoli, con ingloigni, vediamo qua, è il tipo di lavoro che ci dà felicità. Ed è perché qui sotto c'è di diamanti e d'or una grande quantità. E' così, e' così, e' così, e' così, ci trovate sempre qui. Dalla mattina a sera stiamo intenti a lavorare, scadiamo e spicconiamo tutto quello che ci fa. Troviamo diamanti in quantità e altri gemme d'ogni qualità, anche se ne abbiamo da buttare, noi sempre chiamo a scavare. Ehi ha! 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 A casa riposar! Ehi ha! 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 Ehi ha!